Eccoci qua al 22 dicembre, interessante il tema di quest'oggi, Dio si muove per primo, crea, salva, trasforma e questo ce lo dice nel primo capitolo di Luca, versetti 46-55, è il Magnificat che conosciamo tutti, è un inno ma è un progetto di vita, è l'esaltazione di quello che Dio ha fatto in questa umile e alta creatura, come direbbe il profeta e scrittore e poeta Dante, la meditazione di Papa Francesco. Fare memoria di Dio come la Vergine Maria che è davanti all'azione meravigliosa di Dio nella sua vita, non pensa all'onore, al prestigio, alle ricchezze, non si chiude in se stessa, al contrario, dopo aver accolto l'annuncio dell'angelo e aver concepito il figlio di Dio, che cosa fa? Parte, va dall'anziana parente Elisabetta, anche se incinta, per aiutarla e nell'incontro con lei il suo primo atto è la memoria dell'agire di Dio, della fedeltà di Dio nella sua vita, nella storia del suo popolo, nella nostra storia. In questo Cantico di Maria c'è anche la memoria della sua storia personale, la storia di Dio con lei, la sua stessa esperienza di fede ed è così per ognuno di noi, per ogni cristiano. La fede contiene proprio la memoria della storia di Dio, la memoria dell'incontro con Dio, che si muove per primo, che crea e salva, che ci trasforma. La fede è memoria della sua parola, che scalda il cuore, delle sue azioni di salvezza con cui ci dona la vita, ci purifica, ci nutre, ci cura. L'impegno per questa giornata di novena, anche questo come ieri è preso da un salmo, dimmi Signore che cosa devo fare, sono pronto ad obbedirti, la Tua parola Signore mi dà gioia, e come una lampada sul mio cammino, te lo prometto, sarò attento alla Tua voce. A domani.